Ciao a tutti, vediamo in questo video gesti che valgono più di un ti amo. In questo video voglio farti capire quali sono i gesti, anche piccoli gesti, che comunque valgono più di un ti amo. Prima però iscriviti al canale, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e se vuoi qualcosa in più abbonati al canale. Abbonandoti al canale potrai farmi delle domande specifiche e io ti darò delle risposte in diretta in apposite live per cui potrai ottenere tutto questo. E veniamo a gesti che valgono più di un ti amo. Purtroppo noi siamo abituati a dare troppo peso in questa cultura, diciamo così, positivista nella quale siamo immersi. Siamo abituati a dare troppo peso, un peso eccessivo alle parole. Purtroppo questo si manifesta, capita anche abbastanza spesso, chiediamo appunto un peso, un peso forte alle parole, a quello che noi andiamo a dire. In realtà dovremmo imparare a dare un peso inferiore alle parole e a dare un peso superiore ai gesti. Il ti amo è un qualcosa che spesso, tra virgolette, ci frega. Ci frega in senso buono, nel senso che se una persona ti dice ti amo, tu pensi che ti ami davvero. Molte persone pensano questo. Beh, intanto bisogna vedere come lo dice il ti amo. Però teniamo presente che il ti amo può essere detto in modalità completamente diverse. Beh, io potrei dire ti amo, potrei dire ti amo, potrei dire ti amo tantissimo, ecco, oppure ti amo tanto. Sono... la stessa parola è detta in modalità diverse. L'ultima ti amo tanto, c'è un gesto di rifiuto associato, per cui è evidente che in questo caso la persona non ti ama, non ti ama per nulla. È importante quindi capire anche il modo in cui vengono dette le cose, ma fondamentale, di fondamentale importanza, è vedere i gesti che possono valere più di un ti amo. E tenendo presente che molte persone, soprattutto le iperlogiche, hanno difficoltà a esprimere il ti amo. Beh, tra questi gesti troviamo ad esempio l'affettuosità e le coccole. Cioè, una persona che si dimostra affettuosa nei tuoi confronti e magari non ti dice ti amo, ma passa tempo a coccolarti, passa tempo a, diciamo, a utilizzare. È come se dicesse un ti amo a livello cenestesico, a livello tattile. Stesso discorso è se una persona vuole sempre passare del tempo con te. Chi vuole passare sempre del tempo con te è perché in realtà è coinvolto con te. Non è che vuole passare del tempo con te perché non ha di meglio da fare, solitamente. Le carezze sono un ti amo. Guardare una persona negli occhi e darle una carezza nel viso è un ti amo molto più intenso, sotto certi punti di vista, che il ti amo, detto magari in modo anche freddo. E' ovvio che poi ci sono anche gesti importanti. Una persona che nei tuoi confronti è veramente sincera, non fa sotterfugi, non si comporta in modo aperto, si apre. Tieni presente che più una persona si apre, ti dice delle cose intime. E questo è come se fosse un ti amo davvero perché è proprio l'aprirsi. Se una persona ti dice ti amo ma poi di sé non ti dice nulla, non ti racconta nulla, non fa nulla di fatto per dimostrare in qualche modo questo ti amo, beh, questo è un ti amo che è privo di qualsiasi valore, non ha veramente nessun valore. Quindi il ti amo vero si manifesta in altro modo. E poi, come ho detto in altri video, ci sono dei comportamenti anche molto più grandi, che significa che una persona ti ama, una persona che ti ascolta, una persona che è empatica, che riesce ad entrare in empatia con te, che cerca di renderti felice. Questa è un'altra cosa con piccole cose, ma una persona che è coerente, che quando dice una cosa la fa, che se si prende degli impegni li rispetta. Una persona che hanno gli occhi che ridono quando è con te, che è di buon umore quando è con te, che cerca di metterti come prioritaria o prioritario, perché chi inventa delle scuse per non passare del tempo con te è perché di fatto che ti piaccia o che non ti piaccia non ti ama. Chi ti ama davvero vuole passare del tempo con te, vuole stare con te. Questo è un qualcosa di fondamentale capirlo, perché altrimenti rischi di cadere in situazioni in cui credi magari a un ti amo che poi non significa assolutamente nulla. Lascia nei commenti qua sotto quello che ne pensi, qual è la tua opinione, e così diamo un contributo alla community. Iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai le notifiche dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram, e se vuoi qualcosa di più, cioè delle risposte precise mirate alle tue domande, abbonati al canale. Ciao a tutti!